Siamo al campo scuola di Zovencedo in provincia di Vicenza e siamo insieme al prefetto di Vicenza Pietro Signoriello che è venuto qui al campo per un saluto ai ragazzi che iniziano le loro attività. Prefetto, tra le novità introdotte dal decreto legislativo numero 1 del 2000 gennaio 2018, quindi dal nuovo codice di protezione civile, c'è la partecipazione dei cittadini finalizzata alla maggiore consapevolezza dei rischi e alla crescita della resilienza delle comunità. In questa ottica come vede lei il progetto Campi Scuola? Credo sinceramente che sia un progetto che si inserisce pienamente nell'ambito della volontà del legislatore portata dal nuovo codice di protezione civile. Io credo che effettivamente la maggiore consapevolezza da parte della comunità rispetto ai rischi di eventi antropici o naturali che possono comunque coinvolgerli renda maggiormente cittadini. In questo senso partire da ragazzi nell'affermazione, nella realizzazione di una cultura di protezione civile certamente consente di seminare qualcosa che si estenderà anche agli altri ragazzi che loro frequenteranno e quindi probabilmente riuscirà a realizzare questo obiettivo centrale previsto dal codice. Quindi a suo giudizio possono essere proprio i bambini, i ragazzi il punto di partenza per mettere in campo tutte le azioni per generare risultati positivi per tutta la collettività e dare ai cittadini un ruolo centrale nel sistema nazionale di protezione civile? Penso da questo punto di vista che non vadano escluse altre agenzie formative, ma mi riferisco primariamente alla famiglia, però credo che sì, partire già dalla tenera età con lo sviluppo di azioni mirate di formazione possa essere strategico. Un'ultima domanda, i volontari sono coloro che sono impegnati in prima linea anche in questo progetto Campi Scuola. Come si relaziona la Prefettura di Vicenza con questo mondo, con il mondo del volontariato? Guardi, personalmente ho sempre considerato il volontariato una risorsa preziosissima e quindi la Prefettura di Vicenza, come è stata d'altra parte anche l'esperienza della recente tempesta vaia, si relaziona in modo particolarmente intenso e proficuo con tutto il mondo del volontariato di protezione civile, anche perché si tratta di un mondo particolarmente ben organizzato che in occasione di eventi che richiedono il loro coinvolgimento consente di poter realizzare interventi che diversamente si potrebbero realizzare in tempi maggiori o comunque con dispendio di risorse in quel momento non distogliibili da altri fronti. Penso che sia una risorsa importantissima, bisogna puntare sempre di più su questo, anche tenuto conto che poi c'è una realtà sociale, civica in queste zone che avverte molto il senso e il significato dell'attività di volontariato di protezione civile e la segue con molta costanza.